Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove andremo a vedere la possibilità che ci dà QGIS di tenere aggiornata in un campo dello shaper file la data di modifica di ogni singolo afficcio. Quindi per ogni editing fatto sia nella geometria o nella tabella degli attributi avrò sempre un campo dove sarà indicata la data dell'avvenuta modifica. Come esempio andremo a lavorare su uno shaper file lineare. In questo caso andrò a utilizzare il file della rete canali consortile che gestisco in ufficio. Ok andiamo a caricare quindi il nostro shaper file lineare, quello qui, quindi rete canali cbv, andiamo un attimo a personalizzare colore, vediamo un po' di spessore. Allora se noi andiamo a vedere adesso la tabella degli attributi vediamo una serie di attributi e noi dobbiamo creare a questo punto il nostro campo dove andremo a fissare, a mettere in automatico sicuramente la data di aggiornamento di ogni record. Quindi per prima cosa devo creare un nuovo campo, quindi apri in editing, faccio un nuovo campo, chiamiamo data page, scegliamo un tipo data. Ok. Eccolo qua. A questo punto se noi vogliamo cominciare da oggi a tenere aggiornato diciamo questo campo su ogni record devo dare prima una data di riferimento. Quindi mettiamo ad esempio che l'ultimo aggiornamento sia stato fatto, non so, venerdì scorso, che era il 20, giusto? Quindi do a tutti quanti il record della data 20 aprile 2022. Quindi faccio altro canale nel calcolatore dei campi, faccio aggiorno a campo esistente, vado in cerca della mia data age e metto eccolo qua. l'ho già preparata. Ricordate che la data deve essere scritta inverso, cioè quindi anno, mese e giorno. Quindi do l'ok, quindi aggiorno il campo e vedete che automaticamente mi da 20 aprile 2022. Ok. A questo punto cosa devo fare io? Allora devo andare su proprietà. Ok. Vado su modulo attributi. Devo scegliere il campo data age che ho appena fatto. Come valore predefinito devo mettere la funzione che è now, aperta, tonda, parentesi, chiusa, parentesi, vedete che già nell'anteprima mi fa vedere la data di oggi 26 aprile. Se io lasciassi così e basta, cosa mi farebbe? Che per ogni elemento nuovo lui mi darebbe già in automatico questa data. Ma io voglio anche che nel momento che vado a modificare o la geometria dell'elemento o qualcosa a livello di attributo che si aggiorni la data. Quindi devo fare applica valore predefinito dell'aggiornamento. Ok. A questo punto facciamo un paio di prove. Quindi se io faccio un elemento nuovo, ammettiamo di fare un elemento qua. Ok. Vedete, nel momento che io ho fatto l'elemento che mi appare la mia tabella da compilare, se vado in fondo, vedete che c'è già la data 26 aprile 2022 in automatico. Eccolo qua. Se voglio andare a modificare, ad esempio questo elemento qua, che lui giustamente ha nella data, il 20 aprile abbiamo deciso prima, ok. Se io vado a modificarlo, ad esempio, non so, col comando forma, modifica forma, faccio una cosa del genere. Eccolo qua. Vedete? Se vado a toccare l'elemento, automaticamente vedete che ha modificato la data. Anche se andassi a fare una modifica sugli attributi, quindi questo tratto invece di corte rossi, metto corte verdi, ok. Andiamo a ricontrollare questo tratto qui e vedete che ha la data aggiornata ad oggi. Quindi è un comando molto semplice, però che mi permette quindi di mantenere aggiornato la data della mia modifica. Quindi capite bene che questa funzione è veramente utile, come nel mio caso quando devo tenere sotto controllo la tracciatura di tutte le modifiche fatte nel tempo. Ok. Bene, concludo qui. Spero che il video possa esservi stato d'aiuto e aspetto eventualmente i vostri commenti. Grazie e ciao a tutti.